Continuano le accuse dell'opposizione riguardo la vicenda ospedale di Agropoli e la visita del governatore Vincenzo De Luca presso la struttura dello scorso giovedì. Sulla questione il consigliere di minoranza Gisella Botticchio è sulla stessa linea d'onda di Mario Pesca per quanto riguarda il fatto che il popolo sia stato tenuto all'oscuro di tutto. Giovedì 4 giugno è venuto a farci visita il governatore della regione Campania De Luca nel comune di Castellabate dove hanno inaugurato il porto e la posa della prima pietra. Io sono stata avvertita al momento però ci tenevo a chiedere più informazioni sul futuro dell'ospedale di Agropoli dice Botticchio perché la riapertura si fa con un decreto con carte alla mano. Tuttavia il sindaco Spinelli ha accolto in piazza a Castellabate il governatore con tutti i dovuti rispetti mentre quando il governatore si è recato all'ospedale di Agropoli non c'era nessuno che aveva assistito alla giornata, solo i vari giornalisti mentre popolo ed opposizione erano all'oscuro di tutto. Questa è dittatura allo stato puro. Gisella Botticchio inoltre attendeva il presidente della regione Campania all'esterno della struttura ma a quanto pare il governatore ha pensato bene di uscire dalla porta secondaria evitando ulteriori incontri con cittadini e manifestanti.